musica ok allora siamo tornati indietro presumo che andando dove mi ha detto lui cioè nei sotterranei troverò qualcosa che mi tolga da lì per l'invisibilità per il semplice fatto che quelle piattaforme anche quelle sono semi invisibili adesso sto subendo una marea di danno uno scemo non sei ancora morto porca amore quindi probabilmente c'è un'altra abilità che mi darà come come quella del salto del ladro e come quella per i muri la possibilità di fare qualcos'altro non me le spari con le frecce a me a mamma velena e basta tu che cazzo va di retro mostro di satana uno scudo effettivamente io non ho più migliorato niente per avere scudi migliori questo corridoio è stranamente un po' troppo lungo la catena mi sembra tanto di un ascensore una scorciatoia ok e continuiamo per i sotterranei sperando che effettivamente ci sia quella abilità lì ok ok ah mi ricordo di te a proposito ma dove l'avevo incontrato lui c'era una via oh oh mi ha preso lo stesso c'era una via se non mi sbaglio c'era un un punto di ritorno e non l'ho mai aperto vai a ricordare dove fosse però qui c'è una trappola questa forse scusa con la trappola cosa attiva ah quel cristallo lì sì è questo e di che mi ricordavo eccolo lì lo stronzo si vede un cazzo mi ha ucciso con una facilità enorme ecco Grazie a tutti Oh, la porta si è aperta subito Perché mi preoccupo come Dark Souls di trovare un Un boss improvviso Più almeno ho capito che lì il candelabro indica dove c'è un boss Almeno qua Finora mi è sempre più perso che fosse così Oh, ne manca un colpo Tre frecce mi ritai Per ucciderle ne ho bisogno quattro E più o meno Ne è comperso un altro? Oh no What? Però Gli impiccati E mi prendono anche di Mirain con qualcosa di strano Beh, finché vi attacco Quanto pare non avete il tempo di farla Però siete abbastanza immortali mi dite Tante frecce mi ridate dietro? Cinque? Uno, due, tre Quattro, cinque, sette Sette Oto Nove Nove Me ne levano cinque Complimenti a me per far ripresi Mi hai fatto prendere da quella cagata Non ho più Oh Un capo di pietra grande Ma le sono utili Ok Questa non è facile Ok Ok No, due sono troppi Ok 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 L'altro? Probabilmente è periabile come non so cosa è quella cosa Togliamo anche probabilmente Togliamo anche probabilmente Sicuro è periabile Quanto lunga? Yes Interessante Ah 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 Wow Ok Su No, va bene Meglio così perché qui c'ho quel C'ho il viaggiatore Quindi posso andare ovunque Posso andare dove mi pare praticamente No, no Perfetto, perfetto No, no Perfetto, perfetto Ehm Ok Se c'è una cosa che mi piace di questa Di questa mappa è che è tutta collegata e anche bene E con un senso logico è collegata Non sembra ma Per uno che ha una memoria abbastanza spaziale Riesce a ricordarti quanto più o meno sei andato avanti e quanto sei andato indietro E qua si capisce, si capisce effettivamente che è giusto Sei andato prima a sinistra e poi sei sceso adesso in questo caso qua Poi sono di nuovo andato a destra salendo e sono ritornato in quel punto Giustamente Ho detto che era periabilissima da stare Mossa Sono io un deficiente che non ci ho mai provato Ah qua infatti c'è anche l'ascensore gigantesco che mi ricordavo Quindi fa una doppia pa... Doppia pausa Oh cazzo è vero Ma che ca Orca Tente mi teletrasporta Sempre più in alto tra parentesi Non è neanche il tempo Aiuto Non è neanche il tempo Ok è ora di scendere vediamo Il mostro non so effettivamente cosa facesse Contratta solo una volta e una carica Ok Ciondolo sprecevole Aggiunge danno da veleno ai tuoi attacchi Fantastico È una cosa magnifica Manca questo Ci sarà da vedere con uno un po' più forte magari E sai perché quando muoiono Parano un danno lo stesso Allora Allora Sinceramente non mi sembra che No infatti Quanta distanza potete colpire Allora Allora Sarebbe troppo bello vero Una porta Dove porta sta porta Marca Puta Tre poesie di un soldato Non malaccio Forse ho capito io non ho mai provato a potenziare le mie armature Ho capito cosa servono le altre cose Scusa ma Non c'è nient'altro qua No io da dove sono arrivato Eh no non c'è un cazzo E allora No aspetta Mi ero semplicemente un pochino perso Ok Ah ok Qui immagino sia l'ascensore No Però a far così Ah no ma è una scala proprio Ma che gare va Ah ok è dove c'erano i due soldati Perfetto Va bene va bene Grazie per aver seguito il video Se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace E di condividere Inoltre se non siete ancora iscritti Vi ricordo di iscrivervi qui sotto E noi ci vediamo alla prossima Ciao!